Anche di come contrastare il populismo anti-europeo sempre più dilagante ha parlato il Presidente della Commissione Affari Esteri del Senato, Pier Ferdinando Casini, in questa intervista di Cristina Prezioso. Presidente, che bilancio si può fare dell'azione dell'Unione Europea di questi ultimi 12 mesi? Il bilancio è pieno di luci e di ombre, si sono fatti alcuni passi in avanti ma noi vediamo troppa timidezza, oggi c'è un'ondata di anti-europeismo, di populismo, il populismo e anti-europeismo si saldano perché l'Europa è imputata per essere troppo burocratica e poco vicina alle esigenze dei cittadini, in molte circostanze i singoli Stati nazionali come l'Italia con l'operazione Mare Nostrum sul contrasto all'immigrazione clandestina debbono intervenire in prima persona perché i meccanismi europei sono molto lontani, e ancora molto burocratici, per cui davanti a questa situazione così complessa l'Europa dovrebbe avere un passo maggiore, l'euro retorica oggi non è sufficiente per contrastare l'anti-europeismo, se la sfida della prossima campagna elettorale sarà Europa, europeismo tradizionale contro populismo anti-europeo rischia di essere una sonora sconfitta per gli europeisti come io sono, allora l'Europa deve cambiare passo e a quel punto si dovrà far capire alla gente finalmente quanto noi siamo ancorati in un sistema di valori, le voglio dare un dato, l'Europa negli anni 50 era quasi metà della popolazione mondiale e quasi metà del PIL mondiale, oggi l'Europa è il 7% della popolazione mondiale e il 10% del PIL mondiale, cosa vuol dire? Che se non stiamo assieme già non contiamo nulla come Stati nazionali e già come Europa contiamo poco. Parlando di cambio di passo, si è appena concluso il Consiglio europeo, il risultato sulla strategia di difesa comune è soddisfacente? Per me no, noi come Commissioni esteri e difesa e Unione europea del Senato e della Camera abbiamo prodotto un documento, siamo l'unico Parlamento in Europa che ha fatto un documento sulla difesa comune, partendo da un presupposto, ci sono tante spese militari e c'è la necessità di tagliare e di rendere più efficiente, anche perché c'è poi da essere più presenti sotto il profilo sociale, nella solidarietà, gli Stati non ce la fanno a mantenere apparati in modo diviso, settoriale, mettiamo in comune la difesa europea, avremo più efficienza e meno spesa, diciamo che siamo al vogliamoci bene col documento di ieri, si accetta il principio della difesa comune europea, ma c'è ancora tantissimo da fare e non c'è nulla di concreto che si è prodotto. Mi fermo qui perché potrei parlare anche di Unione bancaria. Parliamone dell'Unione bancaria perché i commenti sono più soddisfatti rispetto all'accordo raggiunto e si spera che questo possa incidere sulla crisi che ancora insiste in Europa. Io sono talmente europeista che sono più esigente e vedo il bicchiere mezzo vuoto piuttosto che quello mezzo pieno. Si è fissato il principio dell'Unione bancaria, ma anche qui si stende a far partire un meccanismo europeo di garanzia. Si affida ancora agli stati nazionali la gran parte delle competenze perché non si vuole mettere in comune il rischio del sistema bancario europeo. Eppure ad esempio paesi come il nostro che sono deboli hanno un sistema bancario che tutto sommato ha retto alla sfida molto meglio di altri paesi. Io avrei voluto un meccanismo più efficiente, tempestivo e europeo. Vedo che ancora la posizione della Germania con questa nuova coalizione, non vedo che sia cambiato molto nella politica tedesca, purtroppo per noi, direi che ha avuto la meglio a questo vertice. Lei lo ha già accennato all'inizio, l'Unione europea ha rafforzato le misure del programma Frontex, ma queste sono sufficienti per non lasciare soli i paesi che come l'Italia sono in prima linea nell'accoglienza. C'è un passo in avanti molto forte, ma non è sufficiente. Noi vogliamo ancora spingere perché ci sia un vero e proprio controllo europeo delle frontiere. Paesi come Malta, l'Italia e la Spagna non possono essere abbandonati e, apro parentesi, episodi bui come questi giorni si sono avuti a Lampedusa non possono annacquare lo straordinario spirito di solidarietà dei nostri cittadini.